Dopo un'estate lunghissima è arrivato l'inverno che porta in dote un abbassamento delle temperature e l'accensione delle caldaie per le famiglie bassanesi e venete. Finalmente, dicono gli amanti del freddo, è chi si occupa di costruire e vendere caldaie. Già perché dopo la fine dei vari incentivi e soprattutto dopo il ritorno a quote per così dire normali dei prezzi di luce e gas, si è rimesso in moto anche il mercato delle caldaie. La direzione però è un tantino diversa da quello che ci si aspettava e molte famiglie si stanno affidando alle tradizionali caldaie a metano a discapito delle pompe di calore. Perché? Perché queste ultime hanno un costo energetico molto alto e perché sono anche piuttosto scomode, per non dire impossibili, per un appartamento o un alloggio che non abbia la possibilità di avere unità esterne decisamente ingombranti. Se questo vi ricorda qualcosa siete sulla strada giusta, ma facciamo un passo indietro a qualche mese fa, quando è emersa per la prima volta la necessità da parte di Baxi di ingrandirsi negli spazi dell'ex IAR per poter costruire i nuovi impianti di riscaldamento. Da quel momento è partito un domino economico, sociale e politico che ha coinvolto l'amministrazione Pavan, le campagne di San Lazzaro, i cittadini e le associazioni ambientaliste e di categoria, i lavoratori di Baxi e tutto quel che ruota attorno a Bassano. Il finale è noto con un pareggio che equivale a una bocciatura in consiglio comunale della proposta dell'aggiunta di Elena Pavan, seguita poi da una manifestazione di piazza dei lavoratori Baxi e da un cambiamento radicale nelle prospettive aziendali. Alla fine le campagne di San Lazzaro si sono salvate, forse, e i vertici locali di Baxi hanno ammesso che si troverà un'altra strada. Ora pare che la richiesta del mercato si stia spostando sulle caldaie a condensazione, con le pompe di calore e l'idrogeno fermi con le quattro frecce in attesa della transizione ecologica europea e di molte altre variabili. Quindi se ne riparlerà e, anche se c'è qualche flessione, il comparto sembra poter marciare a ranghi compatti per qualche altro anno. Alla luce di tutto questo sono molti i bassanesi che si chiedono perché i cambiamenti del mercato, le ipotesi sulle variazioni del comparto non siano stati presi in considerazione dall'amministrazione Pavan quando si è imbarcata nel percorso che ha portato a uno dei più duri scontri politici e civici che la città ricordi negli ultimi anni.